sull'autaro calcio di punizione o qualche dubbio l'atalanta non ci fa uscire palla al piede è un pressing forse nato quello dell'atalanta io spero che col passare dei minuti ma non c'era fallo ma che fallo è tutti sicuri sull'autaro qua dico filadelfia anche barbato è in dubbio bisogna vedere è svenuto a me sembra svenuto bisogna un po d'acqua in più che a te che a te possa essere sembrato svenuto capisco nel senso no dai c'era 15 centimetri almeno ma tu hai visto se c'è stato un tocco no allora no cioè tu hai visto la parte finale dove lui io se tu non mi tocchi e cado se a me non mi tocchi e cado svengo filadelfia la interpreta ma anche barbato è stato cauto lo fa svenire veramente no su pavarde dicevi filippo che sembrerebbe meno grave no di quanto sembrava in una prima mettiamo anche dall'altra parte col asina che il terzo fallo che fa si piglia giallo pure per col asina e beh ragazzi è il terzo che fa ogni volta che c'è spalle alla porta un giocatore dell'inter atalanta pressa molto alto pressa sull'uomo non lo fa girare si prende dei rischi il rischio è che se tu non fai girare l'uomo però non tocchi la palla poi se vai se vai addosso all'uomo è una volta li piglia caviglia adesso li pigli il ginocchio la caviglia e ti pigli giallo questo è giusto se no fanno tutti non fanno toccare la palla l'attaccante gli vanno sempre dietro come un treno e allora nessuno gioca no no qui nulla da dire prima sinceramente il fallo non c'era l'atalantera in possesso del pallone comunque su pavarde stavo chiude chiudo dicendo che sembrava molto grave perché su questo cross da pacosta lui colpisce forse di testa viene sbilanciato non lo so cade male e cade con tutto il peso sul ginocchio che rimane piantato e si gira in maniera naturale un altro fallo sempre col asinac e ragazzi è sempre col asinac però è sempre col asinac è sempre col asinac e quindi filippo cosa chiede no ma appena preso giallo adesso vediamo come il fallo su cialanoglu sempre spalle alla porta sempre la palla che arriva anzi su darmian e lo colpisce sul giallo non mi è sembrato qui vediamo vediamo ragazzi no questo è questo qui no no è questo quello di prima quello di adesso eh esatto però non vedo non vedo un piede sull'altro sinceramente cadono tutti da soli i giocatori dell'inter no lo prende chiaramente però non gli va sul piede ho capito ma è dove lo prende se non va sul piede lo sbilanci sull'anca cade la punizione c'è ma niente nient'altro cioè non era un giallo insomma ormai ormai l'arbitro si è abituato anche un po' all'andazzo dei giocatori no che non so come dire hanno questo vizio di cadere in bello stile e allora per quello che a volte uno da casa sembra un fallo eclatante però poi magari è un fallo sempre fallo però magari meno eclatante di quello che sembra ma siccome il giocatore cade in bello stile e sembra che c'è la punizione per l'inter siamo 4-5 metri fuori dall'area di rigore molto spostati sulla destra ci sono Cialanoglu col destra e Di Marco col sinistro ovviamente lì se si tira in porta un mancino è più agevolato vediamo un po' il tocco di Ciala per Dima barriera barriera piena è la prima volta che l'inter comunque si fa vedere dalle parti dell'area di rigore dell'Atalanta questo per dire che veramente l'inter non è riuscito a fare gioco in questi 37 minuti gioco non tanto per demerito suo ma tanto per i meriti della squadra di Gasperioni ora c'è una grande palla di Di Marco per Acerbi che può provare il cross in mezzo decisivo bravo Jim City ancora Dunfris sempre dentro l'area di rigore palla sul mancino non se la sente di puntare Ruggeri poi ancora Cialanoglu ancora per Dunfris chiama la palla Cialanoglu lo segue Lukman e allora non gliela dà Dunfris ancora Dunfris può mandare fino in fondo bravissimo Ruggeri poi arriva Ciala cross deviazione di l'inter guadagna il possesso grazie al turco dicevo Pavard alla fine terra sembra che sia rotto tutto poi addirittura un certo barella in campo un certo non barella la barella in campo un certo però quando sembra che sia tutto andato a schifio scusate perché c'è l'inter in avanti si lui si rialza e dice no vabbè sto a posto magari gioco quindi poi non ha giocato entrato Darmian però diciamo che abbiamo un minimo di grande palla di Cialanoglu per Darmian rigore rigore Darmian va anticipare netto musso che esce prende la palla Darmian protestano i giocatori dell'Atalanta adesso ci sarà sicuramente una review guardialini è lì vediamo un po' il protesta il giocatore dell'Atalanta l'arbitro sozza parla col Vara adesso capiremo meglio intanto vediamo da qua e beh ragazzi è netto è netto non è rigore questo Darmian arriva prima di musso gli sposta il pallone musso va diretto su Darmian c'è Gian Bruno che non so se scuote la testa perché è desolato perché è rigore desolatissimo perché può cambiare la partita una partita che sembrava perfetta se bisogna essere sincera è rigore se non è rigore questo non ci sono i rigori che sia così attivo incisivo un giocatore appena entrato che non deve neanche giocare vedi come ti cambiano le partite da un momento in un'azione ha fatto in 40 minuti vabbè sì perché Darmian è entrato al posto di di Pavard insomma vabbè seguiamo seguiamo c'è stato però l'arbitro va a nonno 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 ha fatto un segno è come dire sono tutto pronto musso ciala contro musso l'arbitro sozza fa controlla che i giocatori non siano dentro l'area di rigore 40 di gioco ciala contro musso il portiere la prende guarda rischia l'arbitro parte ciala parte ciala col destro alla tua destra parte ciala 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 sempre lo stesso angolo sempre quello in basso alla destra del portiere 1 a 0 per l'inter a can ciala no glu dai ragazzi dai bravo Darmian e grande palla di ciala no glu perché la palla che da ciala no glu ad armiane è una palla pazzesca poi darmiane bravissimo musso un po' ingenuo secondo me è un po quello che ha fatto deron prima nel giallo col giallo qua ciala tira un rigore perfetto musso intuisce ma non ci può arrivare dai ragazzi dai su su è pazzesco come il calcio no stavamo appunto dicendo e filippo obiettivamente analizzava una partita in cui l'inter per meriti dell'atalanta è il primo tiro in porta dell'inter esatto e poi è arrivata questa questa sgroppata questa ingenuità di musso il rigore magistrale tirato da cialanoglu e giambruno e giambruno è più bruno che già insomma in senso cupo l'umore ecco sì sì no anche perché finisce finisce l'imbattibilità interna quanto riguarda la porta della dell'atalanta che in casa sin qui non aveva subito gol dall'inizio del campionato dopo credo oltre 500 minuti sono statistiche che chiaramente lasciano il tempo che trovano però insomma spacca una partita con un episodio ci voleva un episodio e adesso sarà interessante intanto vado in pubblicità così arriviamo e abbiamo siamo carichi per tutto l'intervallo capire anche la reazione dell'atalanta e poi vengo da te barbato vediamo la classifica pubblicità torniamo subito ve lo prometto tra poco quanto è un altro rimpianto per filadelfia quattro minuti di recupero poi parleremo anche dei rimpianti di filadelfia i dolori del giovane filadelfia cambia tutto per scalvini scamacca si va a prendere il pallone vicino all'area di rigore poi la cerca di mettere in mezzo l'inter si salva in qualche modo rimessa laterale dovrai deve contrastare un marcantonio come scamacca un metro e novantacinque non credevo che fosse alto però è come turampio è anche molto molto dotato dal punto di vista qualitativo siamo tornati indietro a metà campo 45 41 sul conometro ginsiti va da ederson alza gli occhi potrebbe andare nuovamente a zappacosta invece vede scalvini che si va a prendere il pallone c'è ancora in chiusura vediamo se ripartiamo c'è la scamacca libero barella bene sulla sinistra per di marco c'è un po' di spazio va a verticalizzare non so se turam è in fuorigioco ancora turam non ha ancora alzato la bandierina al guardialine grande palla di turam per barella che prova un colpo di tacco la perde di nuovo rimane a terra barella ma non c'è fallo forse ha preso un colpo in testa si è l'arbitro ferma il gioco perché barella ha preso un colpo in testa perché ad altezza è bene ragazzi ha preso un colpo in testa ha preso un calcio in testa ovviamente non voleva no non volontario questo è brutto cioè brutto non volontario ma brutto come siccome protestavano perché l'arbitro aveva fermato il gioco no no non l'avevo visto quindi c'è ragione è il minimo ha preso un'attacchettata in testa una serie di attacchetti in testa cioè no 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 è stato insomma male male Jim City voleva appoggiare chiaramente il piede e prende il povero barella qua forse c'era fallo di Ederson doppio anche la gamba però fortunatamente non lo prende qua c'era fallo netto di Ederson fallo netto di Ederson non fiscato dall'arbitro è al limite dell'area di rigore e poi c'è Jim City che con il passo mette giù il piede e va a prendere insomma questa partita è un disastro mamma mia uno il ginocchio l'altro la testa è vero? è una conta anche perché è molto fisica per fortuna non è stato preso proprio in pieno cioè gli dava una botta sì però secondo me con un po' una medicata è proprio un piccolo peso con i tacchetti mamma mia per fortuna sembrerebbe che il tacchetto non sia proprio verso la cute vediamo vediamo no questa è l'azione di Turam che sono bravissimi andare via due uomini nello stretto poi da lì c'è Musso in uscita i giocatori dell'Atalanta che chiudono diventa difficile tanto il primo tempo durerà veramente una vita erano passati solo due minuti scarsi dall'inizio del recupero quindi ce n'erano da giocare altri due quindi da quando si ricomincia altri due minuti credo intanto Barella viene ridicato con una fascia vistosa in testa beh insomma il taglio ci sarà stato il contrasto seppur involontario ma in un punto delicato perché lui a terra gli è passato involontariamente sopra col tacchetto ma che salto di 20 cm comunque col peso insomma ti tocca però purtroppo il campo è molto bello perché quello come diceva Albi prima è un campo che tiene benissimo però è comunque scivoloso che succedono queste cose è metà sintetica e metà naturale è inevitabile è inevitabile che quando beh la pioggia non ha smesso un attimo no ma la palla la palla viaggia benissimo la vedi non è che si ferma ci sono dei problemi la palla viaggia proprio bene però è in caso bagnato non è però è guarda che nell'inquadratura a campo largo tu neanche ti accorgi che stai proprio bagnato no è vero è vero solo da vicino perché sembra un biliardo cioè va comunque non c'è un rallentamento anche del pallone o un movimento anomalo però certo si però drena ma l'erba comunque bagnata continua a buttare acqua Filadelfia Filadelfia Ciala quanti rimpianti dopo gli iniziamo Filadelfia 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 delle mie brane eh seguiamo questo beh adesso palla palla sombra penso che si giocherà almeno per un altro minuto sicuro 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 da quando è ricominciata due minuti è il cinquantesimo vediamo ora Mkhitaryan prova l'1-2 con Barella non si concretizza però Kupmeiner si allunga la palla rimpallo favorisce Di Marco poi a Cerbia l'indietro per Ciala che fa praticamente ovviamente il difensore aggiunto pallone per Di Marco verticale bene per Barella chiede l'1-2 Di Marco a Barella viene servito prova ad andare via sulla sinistra ora verticalizza per Turam la palla era buona poi Scalvini mette in corner corner per l'Inter quindi se credo sarà molto male Scalvini credo sarà l'ultima azione del primo tempo credo a meno che l'arbitro non faccia giocare un minuto in più rispetto ai due che io ho previsto ma andando semplicemente a sensazione guardando il cronometro tutto pronto per il corner dalla sinistra siamo a 15 secondi dal minuto 50 poi entriamo nel minuto 51 avrebbe dovuto finire il primo tempo al 49 vediamo un po' c'è la Noglu con molta calma va a prendersi il pallone dalla bandierina di sinistra sistema la palla nella mezzaluna eccolo qua tutto pronto per il cross del Turco dalla fascia di sinistra arriva Ciala con il destro parte Ciala arriva al cross basso mette fuori la difesa dell'Atalanta attenzione che prova a ripartire Lukman pallone lungo per Lukman forse c'è qualche secondo per crederci e terminare il primo tempo magari in una situazione di parità perché andare in svantaggio all'intervallo non sarebbe una bella cosa fallo su Lukman calcio di punizione si lamenta Ciala Noglu ultimi 30 secondi probabilmente del primo tempo il fallo è netto sul numero 11 dell'Atalanta interessante calcio di punizione siamo a circa 30 metri molto defilati dalla porta di Sommer però insomma si può mettere un pallone grazioso inquadrato scamacca può essere uno di quelli che può dar fastidio in una situazione del genere si avvicina Ederson al pallone ma lo calcerà sicuramente Copminers con le sue geometrie eccolo qui il pallone per il numero 7 palla al centro il colpo di testa di Scalvini termina tra le braccia di Sommer e forse finirà il primo tempo qui tra l'altro poi voglio sapere quando finisce il primo tempo vado a stuzzicare Tramontana non mi sono persa la perla lanciata da Gianbruno che ha silurato Sommer finito primo tempo finito? 1-0 per l'Inter Ciala su rigore e allora up and down cominciamo dall'Inter poi facciamo quelli dell'Atalanta poi commenti ci scateniamo sigla allora per quanto riguarda gli up Ciala 7 e mezzo assolutamente migliore in campo diceva anche Alberto prima uomo ovunque cuce strappa segna dagli assist arriva l'assist del rigore per Darmiano arriva il gol su rigore poi tante pallone recuperati fa munire 7 e mezzo fa tutto l'altro De Vrij De Vrij dietro soprattutto perché l'Inter per 35 minuti prima del gol di Cialanog ha fatto una fatica in mane in zona difensiva De Vrij non ha perso un contrasto è sempre dato in anticipo attento 7 De Vrij e e il terzo no il terzo Turam non metto Darmian perché è entrato dopo anche se il rigore è merito suo cioè merito suo c'è anche lui 50 e 50 con Ciala Turam ha giocato molto molto bene praticamente in ogni azione offensiva dell'Inter sempre spalle alla porta ha preso non so quanti falli 7 anche a Turam per quelli che vanno giù mi dispiace insistere su Barellino ma lo vedo ancora un pochino indietro 5 e mezzo ma fa bene Inzaghi insistere su di lui sì beh non è che gioca male no non gioca ai livelli a cui non è Barella cioè non è il Barella che conosciamo come si è abituati potrei dare anche 6 solo che nelle ultime partite non metto giù nessuno voglio dire qualcuno bisogna trovare che Barella non è il Barella che conosciamo noi 5 e mezzo e metto 5 e mezzo anche ma molto severi sono questi 5 e mezzo metto 5 e mezzo anche a Dunfrise di Marco ma semplicemente perché abbiamo fatto fatica a uscire dalla nostra metà campo per 35 minuti e gli esterni hanno pensato più giustamente anche a difendere che attaccare gli do 5 e mezzo perché sono visti poco non perché abbiano giocato male ripeto sono voti severissimi questi giusto perché non è che posso ogni volta dire giù uno ma nessuno certo e Lautaro dove lo metti in che limbo cioè del 6 allora c'è un dito che si alza quello di Simone Barbato nel periodo non collegato ci sono stati alcuni cori dell'Inter lo sentivo dal 71 nel periodo non collegato nel periodo non collegato nostro non della partita diciamo quando c'è stata la pubblicità volevo segnalare alcuni cori molto interessanti dell'Inter dei tifosi dell'Inter che coinvolgono i due artefici del gol D'Artarmian sempre combatte e non si abbatte che ti petto D'Artarmian giunge al galop o scarta all'intoppo che ti petto D'Artarmian D'Artarmian Ciala Ciala No Glu La 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 Ciala Ciala No Glu La 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 Tutto il mondo viaggiare per seguire l'FC internazionale Anche se domani andiamo a lavorare Siamo sempre qua al tuo fianco per cantare Io direi che adesso Ah no non è finito Forza inter Comunque si è aggiornato il repertorio di Barbato devo dire che siamo arrivati ai giorni bravo Barbato bravo mi sono piaciute queste La canzone la più recente era del 1800 Esatto Adesso con l'inter Ti sei avvicinato all'epoca nostra e tra l'altro devo dire che insomma Barbato giustamente manifesta una gioia anche diciamo enfatizzata ed esagerata sotto certi aspetti per come si era messa la partita perché tu vedevi l'Atalanto ovunque a bloccare la ripartenza la propria area non sapendo non sapendo non sapendo che il manto di Bergamo era metà sintetico e metà naturale avevo proprio paura dell'effetto bagnato che all'Inter io ho paura dell'effetto io ho paura dell'effetto barbato volevo far vedere la lavagna luminosa anche perché è bello vederti allegro perché per 40 minuti non ti ho sentito eh vedi vedi che è lì che volevo arrivare ma tu ho visto un po' di nervosismo con Filippo un po' di era preoccupato barbato volevo all'unisono col mio amico Gian Bruno volevo far vedere alla lavagna luminosa al pubblico chi ha vinto la sfida tra i due attaccanti della compagine bergamasca e quella dell'Inter tra appunto Lukman e Turan chi ha vinto in questo primo tempo calma barbato calma e questo brullo di tamburi tut 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 e vince Black Panther per mareggio marco sturam no ma fammi vedere l'altro perché c'era una sperequazione di no ma aspetta avevi quindi là dobbiamo immaginarci che ci sia Lukman no ah ecco no cioè no io volevo ma è Lucante ma dai no veramente sei un farlotto non è giusto però ecco perché ho fatto che fosse Lukman ha fatto il ballottaggio veramente era quella di era quella più grande e solo la versione più grande più piccola no volevo accertarmi che tutto fosse regolarmente farlocco e infatti tutto è regolarmente farlocco va bene allora facciamo gli up and down tu sugli up and down di Filippo Philadelphia hai qualcosa da aggiungere io sono d'accordo di comare in cuore per Cialanoglu perché è veramente migliore in campo è migliore in campo sinceramente da sportivo barella io la sufficienza gliela darei è vero che un interista è abituato a vederlo sempre a punti alti però secondo me è l'unica cosa se proprio proprio la sufficienza ecco la sufficienza barella soprattutto oggi soprattutto oggi perché perdonami vedendo comunque la situazione del campo e tutto io ho visto che appunto alcuni giocatori hanno fatto un po' più fatica anche se io penso che l'inter è una questione tattica nel secondo tempo ha risparmiato forza e verrà un filo però devi considerare che i primi la prima mezz'ora l'inter non è riuscita a palleggiare a metà campo non è riuscita a uscire palla al piede e lì c'è anche barella cioè i tre centrocampisti abbiamo visto Cialanoglu dell'Axe e Mkhitaryan e barella che hanno fatto più fatica Mkhitaryan ha fatto meno fatica di barella che poi nell'ultimo quarto d'ora dopo il gol l'inter abbia cominciato a giocare un po' meglio perché l'Atalanta ha abbassato il ritmo forse ha accusato un po' il calcio di rigore ha dei giocatori che hanno un giallo pesante perché con l'Asinac ha rischiato tanto dopo il giallo un minuto dopo perché se lì l'arbitro è severo gli dà il secondo quindi l'Atalanta deve stare attenta ad alcune cose soprattutto ha tenuto un ritmo talmente alto che adesso è interessante tu dici per quello ti dico Filippo vedi mi dai ragione perché adesso nel secondo tempo l'Atalanta tra gli ammoniti e secondo me l'Atalanta Gianbruno mi può confermare io negli ultimi minuti non l'ho vista brillantissima un po' spompata e questa è la bravura dell'Inter comunque se è 1-0 cioè tutto il secondo tempo bisogna vedere l'Atalanta come rientra in campo e l'Inter può solo avere a suo favore ho guardato le statistiche adesso l'Atalanta ha fatto la prima mezz'ora nella metà campo dell'Inter poi andiamo a vedere i tiri in porta Atalanta 1 Inter 2 è stata più però ti dava più l'impressione giustamente andava nella metà campo dell'Inter una notizia che farà felici una notizia che farà felici i tifosi dell'Inter vai dici Gianbruno come diceva prima Filippo in occasione del gol poi c'è Pavara addirittura che entra in campo ha la borsa del ghiaccio sul ginocchio ma comunque ha la borsa del ghiaccio un ginocchio bello gonfio con la borsa del ghiaccio cioè quindi bell'impacco però lui è chiaramente zoppicando però va a festeggiare con i compagni il calciatore che ha il ginocchio rotto non sono neanche immaginato potrebbe essere una distorsione una distorsione un mese un mese qualcosa poi bisogna vedere perché poi magari settimana prossima è in campo ah beh ma questo certo non si sa leggevo il messaggio che è arrivato a caldo da da bordo campo si parla di trauma al ginocchio sinistro ma trauma al ginocchio sinistro vuol dire tutto niente è il classico trauma è il classico trauma da gambetto del tavolino però vedi anche qua quando picchi con il ginocchio ti fa male ah si dice adesso sto vedendo le immagini di 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 Pavard che viene che bella cosa che fa Gasperini che va a chiedere a Pavard come sta e gli fa il pollice ok meno male visto che spesso si dice tra i due allenatori di molta molta sportività allora Gian Bruno sei pronto per i tuoi up and down perché mica mi sono dimenticata voglio dire sigla anche per te scatenati dai scatenati allora cara Giovanna permettimi prima degli up and down giusto in dieci secondi perché è una cosa che mi sta particolarmente a cuore la scorsa settimana era domenica c'era Inter Roma Filippo era in cronaca e io mi trovavo per necessità a far visita in un ospedale in quell'ora era più o meno quest'ora le 19 quindi l'orario di visita ho notato a parte che saluto tutti gli amici che ci seguono dagli ospedali dalle case di cura perché veramente siamo praticamente la loro compagnia perché c'erano tutti i monitor sulla cronaca di Filippo e si regala un sorriso sai è bello quando riesci a farlo e mi sono reso conto veramente dell'aiuto di quanto anche noi facciamo da servizio pubblico perché facciamo entrare nelle case e in questo caso nelle case di cura il messaggio e portiamo perché loro magari non possono vedere la partita in diretta perché non hanno la possibilità lì dall'ospedale di mettere le partite a pagamento e quindi noi lo facciamo questa è una cosa che mi inorgoglisce particolarmente tutta l'azienda io li saluto fortissimamente saluto anche nonno Ico che è un tifoso dell'Atalanta nonno Ico 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 i nomi non ne capisci mai diminutivo di Federico però devi spezzare una lancia a mio favore Ico Ico è mio cugino si chiama Federico lo chiamano Ico giuro che io un Ico non l'ho mai conoscito Fede, Kiko Rico anche io ho capito Ico io ho capito Ico spezzate una lancia io si spezzo la lana però nonno Ico un saluto anche all'amico di Federico e quindi insomma che adesso è tornato a casa ci segue da casa però insomma è stato bellissimo perché giravo le varie stanze da fuori cercando la stanza chiaramente e erano tutte sulla cronaca di Filippo la cosa che mi ha stretto il cuore era bellissimo ma ti dirò di più che la cosa bella di Sette Gold dei cronisti di punta ma di tutto lo staff è che anche chi ha l'abbonamento guarda comunque noi e questa è la cosa Giovanni perché diamo qualcosa in più questo è bello perché poi l'aspetto umano vale tanto il divertimento il sorriso poi diamo i voti sono le telecroniche migliori non le abbiamo dati più no questa non adesso Ippo 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 no no Ippo no Ippo avevo il pianoforte a coda e la televisione alla destra un po' in alto guardavo Sette Gold e suonavi incredibile cioè robe facili e poi invece sei venuto qua a suonare e poi ha unito le cose va bene prevedeva il futuro andiamo purtroppo per noi hai detto perché farlo separatamente posso fare un piccolo un piccolo saluto anch'io veloce a un bambino che si chiama Michelangelo Michelangelo al caro Michelangelo che mi imita sempre perché fa la bandierina del calcio d'angolo quando segna gioca ne lo vada un caro saluto ciao ciao ci vediamo Michelangelo a mangiare insieme un'altra volta prima che Giovanna ovada in pubblicità ovada come ovada vai diamo subito gli up and down che devo volare in pubblicità immagino Colasinac 6 perché fino all'ammunizione ha rischiato il secondo giallo aveva disputato un primo tempo perfetto con grandi anticipi quindi Colasinac 6 6 e mezzo per Zappacosta e Ginsiti Ginsiti ha guidato la difesa in maniera egregia anche quest'oggi ha evitato poi anche che Turam andasse in una situazione pericolosa più avanti possibile 2 a 0 Zappacosta 6 e mezzo perché comunque il suolo ha fatto rientrava da un turno di stop e ha messo diversi palloni interessanti al centro i down sono 2 5 e mezzo De Ron anche se in quel caso è molto bravo Cialanoglu a indurre il cartellino giallo ma De Ron non doveva cadere in questa situazione di giallo credo che addirittura entri in diffida per questo cartellino giallo e Musso 5 perché non è la prima volta che causa un rigore così dispiace però oggettivamente Musso 5 credo che ci si poi giuro che ritorno su questi commenti su questo voto che Par abbia creato insomma qualche perplessità altra po' dibattite altra po' restate con sulla sinistra per Lauti 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 il destro Lautaro Martire è il toro 2 a 0 per l'Inter un gol bellissimo di Lauti un gol bellissimo al destro a giro sul secondo pallo non ci arriva Musso che gol di Lauti che gol di Lauti 2 a 0 per l'Inter è il toro dai ragazzi che gol dodicesimo gol dodicesimo gol in campionato siamo a 12 mamma mia che gol che ha fatto Lauti mamma mia che bravo 2 a 0 dell'Inter doppio con uno splendido gol di Lautaro ho detto che segnavano l'intervallo tu l'avevi detto che i nero azzurri avrebbero segnato insomma avevi puntato sui nero azzurri sbagliati ma il gol lo avevi annunciato Filippo vediamo la classifica altra palla recuperata ancora da Lautaro mandatore in profondità può entrare in area di rigore Lautaro si butta in mezzo da Turam ancora Lautaro prova l'esterno a cercare Turam in area poi va a chiudere Scalvini riparte l'Atalanta non doccia fredda ma di più freddissima anche se ragazzi manca praticamente manca ancora tanto è chiaro manca ancora tanto però doppio così tu che avevi le convinzioni che in casa comunque mal che ti andava non riuscivi a vincere per esempio con la Juve ma comunque riuscivi a blindare la porta avevi grandi sicurezze già oggi nei presidù era ampiamente preventivabile perché arrivava l'Inter e occhio però perché Lukman va da Ateborg che è entrato al posto di Zappacosta ma nuovamente da Ederson che sta disputando un secondo tempo piuttosto disastroso ancora Ateborg pallone al gioco molto brutto molto brutto pazza e la lascia anche in campo la palla vediamo Lauti che prova a inseguirla quasi la prende a Ederson che è andato veramente con una flemma su questo pallone mamma mia da quattro sì Ederson è veramente in contraposizione con quello che ha fatto in queste prime dieci giornate ma questo oggi oggi no è già nei dammi oggi no e quando il gioco si fa duro potrebbe entrare di Ketelar no io lo propongo perché uno da battaglia un uomo da no poi poverino adesso non è che voglia è che qualche nostalgico insomma criticava la scelta di nel nostro piccolo avevamo posto il dubbio sul fatto che avesse continuità no però sai però avevamo qualche dubbio perché aveva iniziato la stagione con due donne sì è vero è vero molto bene nelle ultime partite un po' è calato pensava se fosse sbloccato no ma io glielo auguravo anche perché le qualità le ha quel giocatore lì però il carattere poi è un limite può essere il tuo plus ma anche un limite incredibile Filippo è l'Inter che volevi è l'Inter che ti aspettavi è l'Inter che è una grande che non c'era nel primo tempo che non era nel primo tempo l'ha finito così e l'ha ripreso così il secondo sì no ma l'Inter lotta su ogni pallone l'Atalanta a prima mezz'ora veramente uh qua Ciala non si accorge di Luka ma poi c'è credo fallo credo fallo gol di Scamacca no è fallo ragazzi oh ma questo è fallo però perché ho aspettato esultare perché secondo me il VAR può intervenire ma è fallo e andare a vedere cosa è successo però intanto Scamacca l'ha messa poi ne parliamo però visto che tanti vediamo ragazzi visto che tanti vediamo vediamo cosa succede dai perché cade di Marco sulla pressione di Lukman poi Lukman la mette al centro per Scamacca che è un rapace ma dai è fallo scusami ho un po' di dubbio dai ma è fallo la tira giù con le mani scusa è davanti di Marco ha la palla da vai fallo questo qua ma come fai a non fischiarlo guarda guarda con le due mani devo dire che prima mi sembrava più netto ma scusami ma scusami lo cintura gli prende gli prende il corpo e lo sposta con le mani come fa a non essere fallo vediamo dai vediamo 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 qui tanto il punteggio è stato assegnato c'è un check cioè non ho capito non lo so io non lo so se c'è check perché l'arbitro ha valutato così non so se il VAR può intervenire se è un chiaro evidente errore sì niente l'ha dato ma io non ho parole l'ha dato non ho parole l'ha dato l'ha dato io sto soltanto adesso sono sincero perché avevo qualche dubbio a meno ci riapre la partita abbiamo detto che è una partita viva Scamacca l'uomo più atteso che segna l'Inter e ora forse sta cambiando la partita volevo farvi notare ha arrivato da soprattutto da Copp scusa Simo riparte l'Inter con Barella sulla destra con Dufris ancora fallo io sinceramente sono scandalizzato scandalizzato è un fallo clamoroso ma scusami ma se io difensore prendo posizione davanti all'attaccante ho la palla davanti a me e l'attaccante con le due braccia mi prende il corpo e mi sposta come fa a non essere fallo come fa a non essere fallo la porta fuori Dufris e qui il VAR non interviene l'arbitro ma incredibile ritiene che non sia fallo non sia fallo evidentemente il Ratti al VAR ritiene che non sia un chiaro ed evidente errore che è l'unica cosa l'unica condizio che può far intervenire il VAR in questi casi sarebbe utilissimo sapere e ascoltare i dialoghi comunque resta il fatto saremo tra 8-9 giorni secondo me non è assolutamente fallo quello lì a vederlo così non mi sembra fallo però poi bisogna vederlo meglio comunque volevo far notare soprattutto voglio capire perché perché no perché mi sembra che non mi sembra che il tiramento sia stato fondamentale un contrasto diciamo c'è un contrasto normale Di Marco ha la palla davanti Lukman passa non gli passa attraverso quindi lo sposta e non lo sposta con una spallata lo sposta abbracciandolo e lo sposta così perché la palla è davanti a Di Marco Di Marco non cade da solo non viene spostato da una spallata viene preso e spostato con le mani secondo me non ha messo perché non l'ha proprio abbracciato cioè l'ha toccato ma la palla non la prende mai non la prende mai Lukman se non lo sposta in diretta mi sembrava molto più netto comunque ridendo e scherzando volevo dire a tutti quelli che mi prendono in giro in questi paraggi anche in altri paraggi che fino adesso il pendolino è azzeccato e tu hai detto 3-1 e siamo 2-1 ecco giusto e anche nella sequenza che sono stati fatti i gol fallo su Lukman mettiamo ogni tanto qualche cartellino sozza farà parlare anche per quelli in maglia arancione vediamo vediamo ho appena dato un gol che doveva essere annullato Filippo è arrabbiato no sono arrabbiato nero Filippo è arrabbiato ma sozza deve fischiare fallo non deve aspettare il VAR deve fischiare fallo qui la valutazione errata viene da sozza però vedi che anche in questo consesso Gian Bruno dice in presa diretta mi sembrava clamoroso rivedendolo ai miei dubbi no sinceramente io se hai visto non avevo neanche esultato più di tanto perché pensavo lo annullasse poi vabbè c'era di prima chito sembrava che l'annullava poi però conta che l'arbitro vede il prima chito ma evidentemente non è stato anche guardiarine subito andato con la baglierina attenzione calcio di punizione l'ho visto solo da una prospettiva è svolta con Miners pallone dritto per dritto per Scamata che non ci arriva si difende lì occhio forse è cambiata la gara dai c'è un fallo di mano niente calcio di punizione qua ci stava il giallo va bene va bene ma va bene così andiamo avanti così punizione per l'Inter non ti sta piacendo la direzione arbitrale assolutamente no ma c'è un gol da annullare c'è un gol da annullare cioè era un gol secondo te da annullare in più questo è giallo la mano è qua la mano è qua sul lancio di Barella Scalvini alza la mano non era Scalvini Deron Deron ah era Deron e lo dici così già morito era Deron va bene punizione per l'Inter tre quarti di sinistra molto bene a me si è riparato la faccia tutto pronto si col braccio alto così ha fatto così fine parte Ciala mette fuori Atalanta attenzione Barella prova un dribbling poi allarga ancora per Ciala cross col mancino per Turam che forse affossa un giocatore dell'Atalanta parte Michi sbaglia tutto palla altissima c'era fallo in attacco beh ma vedi usa lo stesso metodo non ha fischiato neanche adesso ecco allora ma tramontare nero no vai vai rispondi 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 ma no ma non rispondo c'era la parte che c'era fuori gioco di Turam allora ragazzi questa partita è cambiata questo è anche il bello del calcio come un episodio no 10 minuti fa pensavo finisce in gole adesso si è riaperto tutto ecco si è riaperto tutto è normale che mi mettono i panni di interisti sul 2-0 eh beh prenderò comunque dubbio bisogna essere sinceri ti riapre la partita cambia l'atalanta eccetera eccetera grande palla di Barella Di Marco non la stoppa per pochissimo che stoppa aveva fatto Di Marco una palla veramente difficile Mkhitaryan per Lautaro che prova un sombrero un pallone difficilissimo scavalcare a Tebur finisce a Musso e allora io sapete cosa faccio? finisco in pubblicità anche perché si preannuncia una mezz'ora infuocata e noi saremo qui a raccontarvela tra poco ben ritrovati intanto dalla redazione numero di Lautaro palla sulla destra per Turam posizione di cross lato corto dell'area che numero ha fatto Lautaro destro sinistro con l'interno attenzione ancora Turam ora ne ha due addosso trova comunque la posizione per crossare Ciala arriva al cross in mezzo c'è Di Marco che prende posizione non riesce a stoppare il pallone molto difficile rimessa dal fondo per la Tala qua Gaspe deve fare qualcosa perché la partita si è ribloccata e io metterei Muriel allora Gian Bruno poi ritorniamo su questo scusami perché Bonfanti dalla redazione altro che con Durale 20-45 diretta stadio per seguire Milan Udinese mi ha comunicato una cosa che ha del clamoroso perché Teo Hernandez non sappiamo ancora il perché ma non sarà neanche in panchina non solo non sarà della partita non sarà neanche in panchina piove sul bagnato in casa Milan che cosa è successo ve lo dirà Bonfanti stesso Crudeli Mosconi a partire dalle 20-45 adesso ritorniamo in questa partita quindi non ci sarà Teo Hernandez che è una perdita insomma non da poco per il Milan cosa è successo Filippo due cambi nell'Inter è uscito Mkhitaryan che mi sembrava parecchio affaticato è entrato Frattesi è uscito Di Marco è entrato Carlos Augusto non mi sembrava così contento Di Marco l'ho visto uscire non so se era un disappunto non lo so l'ho visto al vol tanto Frattesi recupera una bella palla a metà campo vediamo se riusciamo a ripartire con Lautaro che va a cercare Turan pallone un po' indietro l'Atalanta va a pressare a metà campo poi Dunfri prova a sventagliare sulla sinistra Barella mette giù un pallone difficilissimo ancora Barella trova l'inserimento di Cerbi sulla sinistra Cerbi però non trova lo spazio per il cross lo deve rallentare l'Atalanta intanto torna nella sua posizione arriva al cross di Barella mette fuori Copmeiners vediamo chi arriva prima su questo pallone sulla destra c'è il netto vantaggio Ruggeri Ruggeri la recupera e dunque si va nuovamente da Ederson che ancora si addormenta un po' ma in qualche modo riesce a prendere il pallone preservarlo dall'arrivo dei giocatori dell'Inter scambia nuovamente con Ruggeri riesce in qualche modo l'Atalanta a uscire da un'azione pericolosa e riparte con Scamacca che cambia tutto a cercare Luckman attenzione 71 sul cronometro la partita è apertissima Atebur fascia di destra da nuovamente da Deron ancora per Atebur può crossare al centro il pallone sta per arrivare Ederson e poi Sommer la palla arriva invece a Sommer intanto vi dico che Teo Hernandez una botta alla caviglia mi dice Bonfanti quindi la lunga lista degli infortunati in casa Mila ricordiamoci in vista della Champions c'è anche il discorso e ricordiamo che martedì insomma arriva a San Siro il Paris Saint Germain quindi Teo Hernandez botta la caviglia ma anche qui quando dici botta sai magari a scopo precauzionale può essere tutto può essere niente vedremo siamo un po' scoperti lì in mezzo al campo catalizzatore Scamacca le prende tutte lui sulla tre quarti tre quarti e le ha smista nuovamente su Atebur Luckman calamita sui piedi Deron Toloi che è entrato al posto di Scalvini un po' in ombra negli ultimi minuti è entrato l'Italo brasiliano Copminers non va da Ruggeri ma scarica nuovamente da Ederson controllato a vista da Cananoglu ancora Copminers sempre da Ederson controllo dell'Inter che si difende Pasalic entrato poco fa anche lui Deron è un po' ingolosito la portina avanti non conclude ancora per Deron in qualche modo l'Inter riesce a fare arrivare il pallone a Sommer stava per arrivare a Luckman che negli ultimi 15 metri può essere letale aveva scambiato nuovamente Luckman Deron e Deron poteva fare malissimo la porta di Sommer lancio lungo di Darmiana cercare Lautaro che ingaggia l'uno contro uno con Toloi che mette il pallone in fallo laterale 73 di gioco fallo laterale per l'Inter zona offensiva di destra va Dumfries sul pallone aspetta il posizionamento dei compagni poi serva l'indietro Darmian Inter in possesso Darmian poi alla fine torna indietro da Sommer non ha visto sbocchi a metà campo poi palla per Ciala subito pressing alto da parte di Pasalic attenzione ancora Pasalic non si arrende Sommer rischia un pochino poi serve comunque con sicurezza Cialanoglu che viene a prendersi il pallone lancia cercare Turam e sbaglia Turam incredibile devi vedere un errore suo Ottoloi recupera il pallone cioè Lukman 25 metri Sommer poi arriva Scamacca pallone al centro bravo Darmian ancora la sfera resta lì Copminers che è finta il cross e ottiene comunque una rimessa laterale troppo spazio a metà campo Lukman si dispera è cresciuto è cresciuto ha preso forza coraggio Lukman ci ha provato e Rimbalzino che è arrivato appena prima del portiere con il pallone viscido bravo Carlo Pallone al centro dai rigore Deron può andare con la botta non lo fa aspetta aspetta va nuovamente da Lukman pallone al centro mamma De Vrij rischia tantissimo De Vrij rischia dopo gol su questa scivolata sul primo palo tocca la palla per fortuna Sommer è attento e va a raccogliere il pallone siamo un po' sofferenti lì in mezzo perché Turam comunque adesso è un po' sulle gambe fa fatica e quindi quando arriva la palla indietro deve stoppare sul campo viscido fa fatica adesso abbiamo sbagliato lo stop allora Lukman fa quello che in teoria deve fare un attaccante provare la conclusione sul secondo palo è stato bravo Sommer però c'era Scamacca solissimo Turam Turam va a cercare Lautaro ottima chiusura di Gensiti veramente monumentale Gensiti abbiamo dato 6 e mezzo nel primo tempo in questo momento è da 7 Pasalic guarda Ruggeri e lo trova trenino Ruggeri Copminers pallone in profondità per Pasalic può andare ancora da Ruggeri e ottiene un ottimo calcio d'angolo sulla chiusura di De Vrij 15 minuti finali eccolo Muriel e Gasperini e Gritti gli danno le sue diritte inspiegabilmente perché un giocatore mi piace molto Muriel ricordiamo fresco di doppietta in Europa League con lo Sturgratz contro la Juventus aveva calciato negli ultimi istanti una punizione che solo Cesni ha tolto dal 7 Lukman pallone al centro Turam di testa Sommer 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 con calma 76 di gioco Sommer è pronto a rimettere il pallone in gioco con le mani io penso che uscirà Lukman va a toccare per Acerbi ora Ciala stanco sì sì poco lucido nei ultimi minuti c'è spazio sulla sinistra per Barella che può avanzare nella metà campo dell'Atalanta si trova di fronte De Ron che non può intervenire perché stanco è già munito ancora parlone per Acerbi si torna da De Vrij attenzione a Scamac al pressing dell'attaccante dell'Atalanta ora Darmiana attenzione a pressing di Lukman mamma mia che rischio ragazzi ma possiamo anche buttarla via Sommer Sommer area piccola Lukman prova il tentativo di pressing Sommer col mancino va a cercare Lautaro che ingaggia il duello di testa con Attebur non si accorge che la palla è ancora buona e alla fine la perde statistica che magari gioca a nostro favore l'Inter non ha mai subito in queste prime dieci giornate un gol nell'ultimo quarto d'ora tu dici io la dico così siamo entrati adesso nell'ultimo quarto d'ora Scamaca scarica per Ruggeri il cross al centro non ci arriva Copminers comunque la sfiora era comunque in posizione di offside Filippo lo soffrendo c'è da soffrire ma stiamo soffrendo molto in mezzo al campo le punte prima aiutavano tanto i centrocampisti adesso sono veramente stanche perché comunque arrivano palloni alti palloni lunghi sul campo viscido con l'uomo dietro insomma fanno fatica adesso il problema è che non abbiamo cambi abbiamo Sanchez e va bene ma poi è finita lì quindi non saprei neanche chi togliere tra l'autaro si rimette la pettorina strano non sapresti neanche che cambio fare no in attacco sinceramente Turam Lautaro non me la sentirei intanto a questo è De Ketteler ha cambiato a Fentale De Ketteler quindi De Ketteler si e Muriel si è rimesso allora Scamaca non lo puoi togliere in questo momento perché sta lottando lui con i difensori riparte l'Inter con Dunfri sulla destra Dunfri subisce fallo da Cup Miners questo si che fallo calcio di punizione per l'Inter anche qua quando abbiamo palla non siamo più lucidi come prima c'è anche qua Dunfri rientra poi rifare c'è ovvia stanchezza c'è una stanchezza sì sì solo che sai sul 2 a 0 la gestisci in un modo sul 2 a 1 la gestisci in un altro certo è una partita sembra la fotocopia del primo tempo primo tempo Atalanta poi Inter il secondo tempo Inter adesso sta ritornando è vero sta ritornando l'Atalanta con delle una facilità ad andare in area sì 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 l'Inter sta anche l'Atalanta che prova allora è una partita equilibrata però dove tutto può succedere da una parte e dall'altra mentre Primera è un senso unico Inter in questo momento credo ci sia la stessa percentuale del 3 a 1 Inter come del 2 a 2 Atalanta c'è una partita molto aperta a qualsiasi risultato anche se però sarà anche perché sono di parte ma non mi sembra che l'Atalanta riesca a essere così incisiva in fase d'attacco non ha fatto ancora un tiro in porta alla fine quindi sì è arrivata tante volte davanti alla porta ma tirini ha fatti insomma Lukman parata di Sommer già quella è stata una parata importante attenzione ora Musso lancio lungo vediamo se De Vrij e Scamacca attenzione Darmian attaccato da Comainers bravo Darmian a trovare un corridoio per Dunfris adesso un po' lunga anche l'Atalanta 79 di gioco lancio di Dunfris però è fuori gioco Turam Darmian è stato determinante comunque ancora Turam sulla destra Turam subisce fallo calcio di punizione per l'Inter allora seguo questo calcio di punizione poi mi fermo per l'ultima volta poi tutto dunfiato fino alla fine cosa ho dato fuori gioco forse prima di Turam è una mezz'ora dopo è così Gian Bruno è fuori gioco di Turam ha fischiato è fuori gioco di Turam Gian Bruno è nervoso si 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 l'ha fischiato vado in pubblicità posso andare vado per l'ultima volta vadi vadi come diceva qualcuno facciamo il finale di partita tutto dunfiato entra Muriel ed esce Muriel si dentro anche il tuo amico de Keter a posto di Lutman ah si ecco Charles bene bene eccolo qua sono contenta io di vederlo in campo all'opera sono severa perché so che può dar di più sempre Ederson non ci arriva il pallone forse resta in piedi credici Atebur non ci va ottiene il cosa c'è calcio d'angolo rimessa rimessa credo anche Barella sbaglia per stanchezza vediamo chi è che ha monito si figlia anche giallo non so chi c'è un fallo su Charles no proteste forse di Toloi forse proteste di Toloi perché voleva il corner è entrato Frattesi c'è stata una parata di Sommer nel periodo non collegato eh ma noi stiamo soffrendo tanto stiamo soffrendo tanto in contropiede proviamo a trovare degli spazi ma anche nell'ultimo passaggio siamo poco lucidi poco fa però Barella ha provato un pallone comunque è calcio d'angolo è certo ma è normale anche se lui va in scivolare e fa la vanità anche la logica era abbastanza anche capibile la logica della direzione vedi perché vedi perché eh sì è sbaglia quando si parla sempre di protocollo che non può intervenire in questo caso la tecnologia andare a vedere e l'avrei detto a parti invertite perché l'ho detto tantissime volte se c'è la tecnologia deve aiutare e quindi anche un calcio d'angolo ti cambia verso la partita ma se no cambia lì attenzione sì allora tra l'altro attenzione attenzione tra l'altro non abbiamo raccontato l'occasione clamorosa di Dumfries che è andato vicinissimo al gol del 3-1 contro piede dell'Inter Barella dà la palla in area di rigore sul taglio di Dumfries che si trova il pallone sul sinistro in corsa con l'uomo dietro prova dagli forza non ce la fa la palla rimane centrale Musso in posizione para terra adesso sono entrati Aslani per Cialanoglu e Sanchez per Lautaro Martinez dimmi Barbato poi ritorniamo in cronaca questi sono minuti infuocati dire caldi e dire poco cosa c'è? cosa c'è? deve passare sto pallone invece la porta sempre due o tre volte in più si è innamorato del pallone deve passarla la palla e santo cielo Dumfries poi si è trovato appiccicato e ha perso quasi palla è riuscito a tenere il possesso con un rimpallo vediamo ora Thuram Thuram prova a vincere il contrasto con Toloi che lo abbraccia ma non ci fallo manco qua ma va benissimo e allora si sono abbracciati ma se Thuram è di spalle come fa ad abbracciarlo? cos'ha? le plastic man si stava questo non ve lo abbraccio confronto a prima questo non ve lo abbraccio confronto a prima è un whatsapp questo non è un abbraccio è un bacino mandato è un bacino e Gian Bruno com'è com'è tenace nelle sue posizioni ma si perché è stata riaperta una partita che mi sembrava già chiusa lo sono sincero ragazzi è una partita ripeto che si è riaperta col gol di Scamacca poi si parlerà anche domani di quello che diceva Filippo dove va Barella ma dove va? su di Marco ma Barella perché va là? ma perché vai a pressare là Barella mi sarebbe mettere qualche palla al centro io impazzisco su queste cose anche perché per quello che si è visto nel secondo tempo secondo me risultato 2 a 2 ci sta nel senso ah Filedelfia quindi come si suol dire ai punti ma che partita hai visto? eh? che partita hai visto tu? è un 2 a 2 per te quale? quale? quella che stai vedendo te che l'Atalanta nel secondo tempo sta rendendo un po' ma guarda che nero azzurro è sulla maglia dell'Atalanta l'affondo di Barbato la palla in possesso per Filedelfia se anche diciamo così fosse 2 a 2 aspetta Varella aspetta dove vai a pressare l'uomo ma stai più indietro ma sì ma non ha senso regalare spazi al centro campo su sì però lì stanno facendo il gioco dell'Inter anche l'Atalanta un po' stesso palla lungo senza mettere il pallone al centro e l'hai rigore quando hai tenuto comunque in campo scamacca e quindi devi cercare in qualche modo di servirlo sì lo tieni in aria e fai spiovere palloni al centro come se non ci fossero domani pallo di Dumfries che si prende il cartellino giallo si appende a Muriel ci sta calcio di punizione per l'Atalanta io mi aspetto comunque almeno 4 minuti di recupero beh insomma di solito nel secondo tempo si è sempre un po' più abbondanti anche perché ci sono i cambi no banalmente credo che un 4 minuti un pareggino adesso non sarebbe male beh Gian Bruno spera e Tramontana prega nel senso che soffre inizione inizione con un po' di testa da parte di De Ketelar ballone sul fondo su queste cose do un po' più ragione ad Albi su Sommer nel senso che Onana su queste palle andava Sommer giustamente non si fida ha un'altezza diversa una fisicità diversa no beh ma non è colpa sua Onana era alto 1,95 e Sommer è alto 1,85 cioè siamo parlando di 10 cm di differenza esplosività diversa uno ha 26 anni l'altro ne ha 35 è chiaro che le caratteristiche di un portiere cambiano bravo Filippo che mi hai risposto a Gian Bruno a quella provocazione a quella considerazione di inizio trasmissione giusto giusto mancava l'appello se l'era tenuta però che è un po' l'anello debole rispetto ai portieri del passato effettivamente non è il supporto 30 secondi e lo scopriamo si Ruggeri cambio di lato completo a cercare Atebur che in qualche modo comunque il suo contributo lo sta cercando di dare bravo Carlos Augusto Sanchez 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 limite l'area di rigore sovrappone Turam Sanchez non sa cosa fare salta l'uomo Sanchez balla sul destro Sanchez fuori rimesso dal fondo pallone perso a metà campo la grafica va via proprio nel momento in cui avremmo scoperto i minuti di recupero quindi aspettiamo qualche istante 4-5 4 penso almeno 4 almeno sì ma cosa ha perso De Ketterer ecco 6 minuti di recupero 6 minuti una partita mamma mia mamma mia dai 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 Ruggeri prolunga di Pasadic niente parola su Sommer già 30 secondi andati via va Scamac a fare pressing Sommer raccoglie il pallone con le mani si prende ancora qualche secondo prima del rilancio aspettiamo vedere il quadrato Acerbi lancio lungo a cercare Sanchez che viene spinto con due mani ma va bene sempre così va bene Turam sulla destra in questo momento il vantaggio per l'Inter è fischiare i falli e far passare i secondi non c'è nessun vantaggio perché non è che eravamo davanti alla porta Acerbi largo per Carlos Augusto poi Acerbi si sovrappone attenzione lì Aslani verticalizza Gran Toloi secondo giallo rosso Toloi va a prendere ad abbracciare Sanchez che gli aveva preso il tempo Sanchez stava andando in porta Toloi non può fare altro che prendere tirare giù il cileno ed è secondo giallo e cartellino rosso Atalanta in 10 e vedi l'importanza e vedi l'importanza anche inserisci Sanchez fresco gattaio la via in una posizione dove non so cosa avrebbe fatto dopo però gli va via e causa un fallo classico fallo tattico che poi propizia l'espulsione dell'avversario questo con le due braccia sul petto è lo stesso di prima del gol dell'Atalanta uguale le due braccia ad abbracciare uguale quasi Di Marco scusate Di Marco vabbè adesso punizione per l'Inter è davanti alla palla la protegge Lukman è dietro la palla non la tocca la spalla non la usa usa solo le mani per spostare Di Marco solo le mani Aslani va a puntare Pasalic finta di Aslani palla sul mancino devi guadagnare un corner vabbè guadagna un fallo laterale va benissimo zona d'attacco saranno più di 6 minuti di recupero perché adesso c'è pure l'espulsione quindi si recupererà una partita infinita praticamente iniziamo insieme al Milan finiamo insieme quando inizia il Milan vi passate la staffetta va bene ci sarà Bonfanti praticamente a condurre il finale di la partita finirà dopo l'estrazione della ruota di Palermo esatto esatto con Bonfanti in studio avremo il finale di partita dell'Inter dai 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 qua lottano su ogni pallone incredibile fino all'ultimo recupera il pallone cosa succede? tre minuti alla fine Deron spazza via ma non trova nessuno un freeze di testa all'indietro per Aslani che fa una cosa stranissima poi in qualche modo riesce a servire a Cervi c'è il pressing di Pasalic Sommer stop deve rilanciare lancio lungo di Sommer a scavalcare il centrocampo a cercare ancora Turam che si allaccia con Deron ancora Atalanta Atebur tre minuti alla fine ci vuole un pallone messo lì al centro veramente è una cosa assurda che non ci sia stato un cross dico uno per Scamacca per sfruttare le sue lunghe leve fallo laterale per noi De Ketelar perde palla fallo laterale fallo laterale per l'Inter zona difensiva di sinistra in quanto tanto qua rivediamo il fallo di Toloi Sanchez sarebbe andato in porta rimessa laterale intanto rivediamo il replay ma non sappiamo cosa sta succedendo infatti inquadrano tutt'altra rimessa siamo ancora alla rimessa rimessa laterale per l'Inter zona difensiva di sinistra Carlos Augusto tocca corto attenzione all'Atalanta Pasalic di testa Ederson va al centro del campo ma sbaglia il pallone ragazzi vi do una comunicazione saluto faccio un rapido giro di saluti linea casalotto ma rimaniamo con Filippo Tramontana che darà tutti gli aggiornamenti Alberto Giambuno in qualsiasi momento 20.45 il pisco d'inizio di Diretta Stadio e di Milan Udinese con Francesco Bonfatti i suoi ospiti grazie Filippo Tramontana ciao 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 ciao